Ben trovati, buongiorno, rimangono ancora molto preoccupanti, molto negativi i numeri, anche se sembra che si sia fermato il contagio. Si parla ancora di plateau, di picchi, di tutti questi nuovi termini che sono entrati nella nostra vita quotidiana in questa emergenza coronavirus. Però dobbiamo fare il conto ancora con più di 700 morti al giorno, con una situazione ancora molto preoccupante, grave. Adesso lo sta diventando anche dal punto di vista economico, però cerchiamo di ripartire, rimanere uniti e compatti. Spererei anche di non sentire più queste polemiche, questi teatrini tra regioni, governo, perché solo con un'unità di intenti si può uscire da un momento così complicato. E naturalmente il nostro abbraccio virtuale va a tutti coloro che sono in difficoltà, a tutti quelli che stanno soffrendo, a tutti quelli come anche degli amici che ci scrivono, che sono positivi e che stanno lottando con questo coronavirus proprio in prima persona, a chi ha perso degli affetti cari, a chi sta combattendo in prima linea, in seconda, in terza, a chi lavora negli ospedali, a chi fa pronto soccorso, a chi aiuta gli infermieri e tutti quelli che danno la loro mano, la protezione civile, le forze dell'ordine, gli autotrasportatori, chi mantiene anche pulite le città, insomma chi lavora per la pulizia delle città, ma anche all'interno degli stabili, custodi, insomma tantissima gente, se dimentico qualcuno, poi chi fa fatica veramente, che non ha, fa fatica a mangiare perché non ha entrate in questo lockdown che potrebbe protrarsi fino al mese di maggio, quindi mi raccomando state molto attenti, sempre precauzioni, mascherina, se uscite, guanti, distanza di sicurezza da tutti, fatelo soprattutto per voi ma anche per tutti gli altri e solo così si può pensare di andare avanti, come cerchiamo di fare ogni giorno, anche se siamo rimasti in pochi però, un po' di leggerezza con il calcio fa sempre bene e quindi parliamo anche di mercato che è quello che di solito piace di più, anche per pensare oltre a quando quest'estate speriamo si torni finalmente e definitivamente alla normalità e allora facciamo il nome di Federico Chiesa, l'avevamo detto già in mezzo a questa stagione, un pupillo, uno dei preferiti di Antonio Conte che lo vedrebbe bene anche a tutta fascia, il duello è con la Juventus che però ultimamente sembra puntare verso altri obiettivi o comunque non più così calda, mentre l'Inter è pronta potrebbe mettere sul piatto quel Raja Nainggolan che non rientra più nei piani della società e che potrebbe essere un rinforzo molto molto interessante per la Fiorentina, l'ingaggio magari leggermente ridiscusso e allungato in caso di un suo passaggio a Firenze con Dalbert, Nainggolan e un conguaglio cash a favore dei Viola, l'Inter potrebbe avere Federico Chiesa indipendentemente da quello che succederà sul fronte Lautaro, che ne parleremo dopo, piuttosto che riscattare a 12 milioni Moses, forse è il caso proprio di puntare con decisione su Federico Chiesa, che può giocare sì a tutta fascia come pensa di costruirlo Antonio Conte un po' come aveva fatto con lo stesso Moses ai tempi del Chelsea oppure anche più avanzato alle spalle di Lukaku con Eriks magari in un 3-4-2-1 se rimarrà Lautaro in un tridente cambiare anche il tipo di modulo di gioco, cosa che anche bisognerà fare per cercare di inserire al meglio Christian Eriksen, che alla fine ha giocato da titolare in campionato solo contro l'Udinese per l'emergenza, per l'assenza di Brozovic, ve lo ricorderete senza entusiasmare, appena arrivato il 2 di febbraio, poi solo panchine nel derby con la Lazio, con la Juventus, sono solo delle manciate di minuti e chiaramente per crescere non può bastare l'Europa League, le partite giocate dall'inizio alla fine contro i modesti bulgari del Ludo Goretz, bisognerà cercare di fare di più per inserirlo, comunque tornando al discorso Chiesa, rimane un obiettivo forse il principale del mercato nerazzurro che dipenderà però anche dai riscatti dei giocatori, soprattutto quello di Cardi, che sembra un po' più difficile vista la situazione contingente mondiale, l'Inter però potrebbe fare uno sconto su quei 15 milioni previsti dalla clausola fatta in Siria e da Marotta per un suo ritorno in Italia, rimane in piedi e caldo lo scambio con la Juventus, i Cardi per Pjanic, però potrebbe anche poi partire una trattativa anche parallela tra Inter e Juventus con degli scambi di giocatori nel caso in cui il Paris Saint Germain si tirasse indietro e decidesse insomma di non riscattare Mauro Icardi, per Fedesic l'abbiamo detto il discorso con lo scambio, con Tolisso per evitare quindi che il Bayern Monaco metta del cash per il suo riscatto, per cui dovrebbe pagare 25 milioni, leggermente valutato un poco di più Tolisso che però ha sempre avuto pochissimo spazio con la permanenza di Flick in Baviera sarà ancora più difficile, quindi non dico uno scambio alla pari ma magari un leggero conguaglio a favore del Bayern di Monaco, potrebbe essere questa la soluzione per Persic e farà al tempo stesso plus Valenza, per Nangorana mi ha detto potrebbe essere il giocatore giusto per arrivare a Federico Chiesa e quindi fare un grande colpo di mercato a centrocampo con Tolisso, poi si lavora anche a Tonali e lì potrebbero entrare nel discorso dei giovani promettenti da offrire al Brescia in cambio del centrocampista per cui ci sarà un bel derby d'Italia con la Juventus che lo vede anche come possibile sostituto di Pjanic con Saric però non ha dimenticato Giorginho, il suo giocatore ideale che si era portato al Chelsea che vorrebbe rivedere alla Juventus dove non è rimasto affatto fatica a trovare il feeling con Pjanic, anche per questo rimane in piedi lo scambio con il Paris Saint Germain di cui dicevamo prima, per quanto invece riguarda Lautaro da Via della Liberazione, nonostante dalla Spagna continuino a insistere ogni giorno mettendo Lautaro in prima pagina ci fanno sapere che non c'è al momento in corso nessuna trattativa con il club spagnolo per Lautaro Martinez che in base a quello che vi dicevamo anche nei giorni scorsi ha avuto già un principio di adeguamento già stabilito con un ingaggio a crescere già stabilito dal suo contratto quindi non guadagna più un milione e mezzo ma due e due più bonus e diritti d'immagine che dovrebbe avvicinare la cifra complessiva a 3 milioni quindi anche per questo Lautaro è tranquillo e soddisfatto della sua situazione qua a Milano chiaramente il Barcellona offre 7 milioni a stagione, abbiamo letto sulla stampa catalana che sarebbe più del doppio di quanto percepisce ora, abbiamo anche però aggiunto che l'Inter nel caso di una sua permanenza andrà a rinnovargli il contratto a togliere quella clausola che superata la crisi potrebbe ridiventare preoccupante adesso è difficile che qualcuno possa permettersi di pagare 111 milioni cash però al momento non c'è nessuna trattativa, non c'è stata quindi nessuna offerta respinta come dicono in Spagna da 70 milioni più Vidal e Semedo ieri addirittura parlavano di Junior Firpo terzino sinistro che non è che scaldi più di tanto gli animi e poi anche di un cavallo di ritorno Rafinha che potrebbe entrare lui nella lista di possibili contropartite però è rimasto sì nel cuore di tanti tifosi nerazzurri però era un'altra Inter, lui grande amico di Icardi, piaceva molto a Spalletti però sarebbe un trequartista che con Sensi ed Eriksen l'Inter penso che non ne abbia bisogno nonostante appunto parliamo di un giocatore che nonostante i problemi fisici con cui era arrivato ha fatto molto molto bene e era piaciuto anche per l'attaccamento alla maglia che ha dimostrato subito per l'Inter e fu determinante per arrivare alla Champions con Spalletti a tornare in Champions per quanto riguarda la situazione invece ripartenza infruttuosa è stata la Conference Call di Lega non ci sono trovati degli accordi sul taglio degli stipendi con l'Associazione Italiana Calciatori sulla ripartenza che ci sarà alla ripresa con queste partite con l'Inter che addirittura ne dovrà giocare 22 in poco tempo quindi è una situazione veramente anche preoccupante dal punto di vista non solo sanitario ma anche per possibili infortuni dopo una lunga assenza a cui i giocatori non sono abituati perché non è chiaramente la stessa cosa allenarsi in casa da soli e poi tutti chiedono tamponi per tutti i calciatori e questo potrebbe essere anche un altro elemento molto da discutere perché abbiamo visto la difficoltà di avere, ricevere tamponi con gente anche che ha visto morire in casa dei propri familiari proprio per la anche a cui non è mai stato fatto il tampone farlo a tutti i calciatori per riprendere sarebbe anche una mancanza di rispetto se prima non lo si facesse alle categorie più a rischio a tutti quelli che lavorano negli ospedali a tutti quelli che comunque continuano a permettere agli altri di avere una vita normale tra virgolette è tutta una questione è tutta una da vedere quando speriamo presto iniziamo a parlare veramente di date certe non di fissarle così tanto per perché abbiamo visto che comunque si va avanti con un ritmo di crescita del 4% e per ripartire bisogna toccare lo zero speriamo presto rassegna stampa iniziamo da Sport Mediaset con le parole di Candreva ieri in chat Conte il numero 1 il miglior tecnico che ho avuto l'esterno sui social nerazzurri voglio essere decisivo e alzare un trofeo in quest'anno e mezzo il mister è uno di poche parole ma ti entra subito dentro non mi ha detto tanto mi conosce ha saputo comunicare con i fatti e gli occhi conosce solo una parola il lavoro il sacrificio per me è stato il mister più importante mai avuto sin dai tempi della nazionale è il numero 1 posso solo parlare bene di lui sull'emozione più grande all'Inter ne ho avute tante spero di averne altre voglio essere decisivo a alzare un trofeo in questo anno e mezzo l'emozione di giocare in un San Siro pieno è grandissima se ti dicessi tutto quello che ho provato saremmo qui fino a stasera sul futuro una volta appesi di scarpini al chiodo mi piacerebbe fare l'allenatore sull'emergenza coronavirus dice che Andreva ne usciremo più forti di prima perché ci sembrerà una novità anche andare a passeggiare al parco questo periodo ci può servire da lezione le cose che ci pesavano prima diventano fondamentali significative belle le parole di Antonio Candreva poi sulla situazione fumata grigia in Lega nessuna novità su stipendi e date mentre Cepherin prevede delle sanzioni per chi stopperà i campionati come ha fatto il Belgio nel Belgio assegnando il scudetto al Bruges chi fa come in Belgio rischia le coppe però bisogna fare anche molta attenzione a fare dichiarazioni del genere perché la situazione è veramente molto molto preoccupante come diciamo spesso anche noi avrebbe poco senso ripartire e ricominciare un campionato già viziato e prima di passare a leggere i giornali permettetemi come fa anche Sport Medias di ricordare a dieci anni dalla sua scomparsa Maurizio Mosca se non avete visto ieri sera lo speciale su Italia 1 che lo ricordava fatto da un altro nostro amico che non c'è più il regista Andrea Sanna fatelo andate su Sport Mediaset su Mediaset Play e riguardatevelo per tutti quelli che avevano nel cuore un precursore un giornalista che ha dato tanto e che riusciva sempre a strappare un sorriso a tutti e sarebbe riuscito anche in questo momento complicato andiamo a leggere i giornali cominciando dalla Gazzetta dello Sport in prima pagina c'è l'Inter e un piano per ringiovanire e rinforzare la squadra con il rinnovo di Marcello Brozovic togliendo la clausola da 60 milioni che c'è sul suo contratto obiettivo giovane Inter è il titolo della Gazzetta rinnova Brozovic attorno a lui Conte costruirà il futuro nel mirino Chiesa Tolisso Cumbulla ed Emerson Palmieri servono 130 milioni dalle cessioni di Cardi Perisic e il Ninja con la possibilità che vi dicevamo prima anche noi invece anche di fare degli scambi che possano permettere all'Inter di non perderci perché comunque sarà difficile trovare delle cifre importanti dopo questa crisi Tolisso Chiesa Emerson e Cumbulla rinforzi da 130 milioni e via la clausola per Marcello leggiamo il cuore dell'Inter funziona qui si va di check up in check up a intervalli regolari giusto per non peccare di superficialità è anche l'ultimo controllo Marcello Brozovic l'ha passato bene il dottore era di quelli rigidi Antonio Conte tutto a posto oppure la prossima Inter ruoterà attorno al croato pietra preziosa di una squadra che ha l'anima giovane capitano di un'armata che vuole alzare il tiro Marcello Brozovic uno quello il giocatore che più di tutti fa chilometri nel campionato capitano di un'armata che almeno altri sette protagonisti con la patente di guida presa sì ma mai rinnovata perché ancora non c'è stato bisogno piuttosto c'è bisogno di rinnovare dell'altro lo sa anche la società Brozovic ha un contratto di scadenza del 2022 e al netto dei 3-5 milioni che guadagna attualmente che l'Inter è disposta a ritoccare fino a 4 l'obiettivo vero è togliere quella causa la rescissola 60 milioni che può ingolosire altri club ecco perché l'idea alla fine di questa stagione è quella di arrivare a un nuovo contratto con scadenza 2024 detto del cuore bene fare un passaggio su tutto il corpo Conte ha posto le basi di un progetto vincente ma c'è bisogno di abbassare ancora di più l'età media l'Inter è la terza rosa più anziana della Serie A l'idea è far scendere il più possibile quel dato sposando un mix tra giocatori vincenti e sferti e giovani quindi andiamo in fascia a gennaio Conte aveva indicato Marco Salonso che pure resta nei pensieri Nerazzurri ma volendo tenere fede alla linea verde un altro giocatore da sempre stimato è sempre del Chelsea Emerson Palmieri le trattative del rinnovo tra il Mancino e il Chelsea non hanno portato a nulla l'Inter conosce la situazione sa che potrebbero bastare 25 milioni a destra dipenderà anche da quanto verrà con Moses ma dai radar Nerazzurri non è mai uscito Federico Chiesa non è un mistero che Conte lo vedrebbe bene impiegato a tutta fascia c'è la Juve di mezzo c'è una valutazione che anche in tempi difficili come l'attuale non scenderà mai sotto quota 50 milioni non è tutto perché vicino a Brozovic piace Castrovilli e poi c'è quel Tolisso che avrà 26 anni ad agosto il Bayern l'ha messo sul mercato per una valutazione di almeno 35 milioni per noi è scesa dopo questa crisi e anche con la permanenza di Flick avrebbe poco spazio quindi un giocatore che potrebbe valere al massimo una trentina di milioni non vede l'ora di scappare da Monaco proprio ieri il Bayern ha annunciato il rinnovo di Flick come vi dicevo che su Tolisso praticamente non conta e quindi stuzzica come possibile rinforzo e difficilmente conterà ancora su Goodin Conte non è mai scattata la scintilla Marotta Ausilio un pensiero lo fanno anche allo svincolato Vertonghen ma stuzzica l'idea di portarsi in casa con Bulla che il Verona valuta 20 milioni con cui sono in ballo i discorsi Salsedo e Di Marco insomma si è capito l'Inter e Conte lì vogliono giovani e forti per declinare l'Inter sia al presente che al futuro non resta che avviare le pratiche con Chiesa che sarebbe l'acquisto più importante poi in uscita dai Cardi al Ninja i prestiti serviranno per gli altri acquisti top per creare il tesoretto occhio alle eccessioni di Gio Mario Lazzaro e poi anche all'addio di Godin che permetterebbe di risparmiare soprattutto alla voce stipendi un tesoretto Ivan e Raja Perisic bocciato da Conte deve essere riscattato dal Bayern Monaco però vuole uno sconto sui 25 milioni l'Inter può avere una bella entrata anche da Nainggolani ora in prestito secco al Cagliari i rosso-blu stanno pensando alla conferma visto il rendimento di nuovo ad alti livelli del Ninja anche se i 4 milioni e mezzo che Raja deve avere da Suning per altri due anni spaventano un po' il numero uno del club Giulini con il rosso-blu c'è pure in ballo la scadenza della seconda rata da 25 milioni per riscatto obbligatorio di Barella quindi Nainggolani potrebbe servire ad abbassare il prezzo oppure come vi ho detto entrare nell'operazione chiesa questo quanto sulla Gazzetta dello Sport che poi fa un punto sulla situazione l'accordo resta ancora lontano in Lega intesa saltata sulla questione stipendi club avanti in autonomia non c'è convergenza con il sindacato sulle retribuzioni dei giocatori i presidenti al lavoro su un documento comune sulla ripresa le società non si sbilanciano raccolti gli inviti di UEFA e governo ma prima di tutto la salute di atleti e di tutti i coinvolti linee guida per ogni squadra per ripartire tamponi a tutti e c'è capa approfonditi gravina pensa la salvaguardia di calciatori e staff attenzione speciale per i contagiati Tommasi detta i tempi si giochi d'estate ma FIFA e UEFA diano un aiuto economico e poi l'avviso di Ceferin stop ai tornei attenti rischiate l'esclusione dalle coppe presidente avverte il Belgio gli altri paesi nel caso di chiusura anticipata dei campionati però appunto come diciamo prima bisogna analizzare bene la situazione e invece bloccare i campionati potrebbe anche essere una decisione saggia e anche di rispetto verso tutto quello che c'è stato e da cui il calcio non può esimersi non può dimenticare Romagnoli rinnoverai con Gabbia ecco il muro Milan si parla anche di manovre rossonere sulla gazzetta che chiudiamo per aprire il Corriere dello Sport che in prima pagina fa un'analisi della situazione contingente e parte proprio dalle parole di Cefri in monito dell'UEFA dopo lo stop del Belgio chi si ferma è fuori lettera del governo europeo del calcio e delle lege alle leghe i campionati vanno conclusi pena l'esclusione dalle coppe in campo fino al 3 di agosto poi Borrelli caos chiusura dopo le dichiarazioni che il capo della protezione civile ha fatto e che ha detto essere state malinterpretate il capo della protezione civile allunga le restrizioni fino al 16 maggio ma poi ritratta deciderà sempre il governo il fondo di Barbano è una caporetto vogliamo parlarne la verità è che nessuno è disposto ad ammettere che la nostra sfida all'epidemia è stata una caporetto nazionale di cui portano responsabilità in ugual misura la politica e gli scienziati i leghisti e le sinistre a palazzo la sanità lombarda e il governo una sconfitta per tutti possiamo non condividere dopo questi numeri dopo questa emergenza che non finisce insomma è una sconfitta in ogni caso per tutti tutti quei morti che sicuramente fanno veramente tanto male l'UEFA ha prolungato il termine ultimo se si ricomincia a giugno il tempo ci sarà federazione lega avvisate la serie A è spaccata ma intanto si pensa tamponi e allenamenti malagò la sua confessione è difficile ripartire e poi ormai è guerra stipendi non c'è punto di incontro tra Lega e Associazione Calciatori con i club che vanno avanti singolarmente con accordi per il momento individuale e l'UEFA avverte no agli stop fase 2 dal 16 maggio poi arriva il dietro front le chiusure sono fino al 13 di aprile deciderà il governo in base ai dati mattinata l'intervento di Borrelli che scatena le polemiche però altri 760 altri scusate 766 morti contagi stabilizzati asse Parigi Berlino per gli aiuti e poi la Liga dura tutti in cassa integrazione la Premier va avanti sul taglio i 20 club decisi e d'accordo su un taglio del 30% nella pagina dedicata all'Inter invece si parla di Icardi il ritorno scomodo Maurito non vuole restare al PSG l'Inter perderebbe 70 milioni di riscatto e dovrà anche piazzarlo in casa nera azzurra sta per esplodere un caso secondo il Core Sport era interessata la Juve ma adesso per la crisi rischia il depreciamento e si ipotizza sul Core Sport anche un possibile scambio di nuovo con Di Bala con altri giocatori bianconeri proprio per il mancato riscatto che però rimane ancora in ballo col potenziale scambio con Pjanic vedremo e poi i fantastici 4 non hanno i doppioni Andanovic De Vrij Brozovic e Lukaku senza avere i sostituti un vuoto da colmare nel prossimo mercato con le parole ai tifosi di Sebastiano Esposito voglio migliorarmi io amo l'Inter andiamo a tutto sport velocemente per analizzare la situazione si incentra qui le pagine dedicate all'Inter su quanto Conte sia stato fondamentale per aumentare il valore della rosa dell'Inter da Brozovic a Bastoni senza dimenticare Sebastiano Esposito a cui ha dato fiducia lo stesso Lautaro Martinez che ha fatto un salto più importante che l'ha posto sempre poi gli ha fatto mettere gli ha procurato le attenzioni tutti i principali top club europei tutto sport Burioni parla calcio e virus da Italia segna il 4 a 3 c'è stato un primo tempo drammatico nei 15 minuti iniziali abbiamo preso 3 gol poi la squadra si è messa a giocare 3 a 1 3 a 2 3 a 3 e spinge per la vittoria il virologo in Italia 6 milioni di contagi non vogliamo ora calciatori promuovete gli aiuti alla scienza e poi l'ottito Agnelli ok dal patrone della Lazio elogio per gli ingaggi intanto la serie A è in stallo si allinea alle disposizioni di WFGC ma tra i club crescono i dubbi sulla ripresa la minaccia di Ceferin rischia il belgio come sugli altri giornali e poi vi dicevo la pagina dedicata all'Inter con l'importanza di Conte che ha fatto aumentare la rosa il valore della rosa dell'Inter il potenziatore è il titolo da De Vrij a Candreva i nerazzurri che si sono trasformati da incompiuti a certezze anche il giovane difensore Bassoni tra i giocatori che devono dire grazie al tecnico e poi il Tour de Force in caso di ripartenza i nerazzurri potrebbero arrivare a 22 partite in Europa solo il Basilean nelle stesse condizioni secondo le ultime valutazioni UEFA se dovessero andare avanti nelle coppe pensate e chiamatelo il potenziatore si è sempre detto Antonio Conte è un allenatore bravissimo a far rendere al massimo i suoi giocatori missioni compiute anche all'Inter De Vrij Lukaku e Martinez poi Candreva Bastoni ha avuto un discreto rendimento anche Gagliardini quando c'è stato ma soprattutto si è esaltato Lautaro Martinez il toro fino al giugno scorso era un attaccante promettente ma ancora Cerbo reduce da un'annata da vice Icardi con Conte l'esplosione 16 gol e l'assalto dei top club europei come vi dicevamo prima di chiudere passiamo al Corriere della Sera naturalmente si parla della situazione contingente delle difficoltà dal punto di vista anche economico troppi fuori di casa più controlli le foto del mercato a Napoli quasi 120.000 i contagi più guariti caso Borrelli sulle restrizioni fino a maggio riaperture cabina di regia governo regioni Veneto mascherine obbligatorie nei supermercati speriamo che un po' tutti si adeguino a queste misure da rendere obbligatorie però previa distribuzione a tutti delle mascherine che sono introvabili e poi tamponi rapidi anche in auto emergenza coronavirus ancora troppi cittadini non rispettano il divieto di restare a casa stretta sui controlli 15.000 multe in 48 ore aumentano i guariti nei supermercati di Lombardia e Veneto mascherine obbligatorie mi raccomando sarà un weekend di bel tempo però voi rimanete a casa anch'io ho avuto modo di vedere andando e tornando da lavoro troppa gente troppa gente fuori genitori che sono tornati a portare i bambini al parco gente che passeggia insomma tutto questo non è possibile perché è ancora sempre più problematica la situazione continuiamo a leggere il Corriere della Sera più gente nelle strade 15.000 multe in 48 ore la sindrome di chi esce tanto il virus è altrove nelle città aumentano i movimenti giro di vite nelle verifiche anche in vista di Pasqua Borrelli possibile fase 2 dal 16 maggio ma Locatelli i tempi spettano al decisore politico e polemica sul commissario che dopo si corregge parole equivocate l'unica data è il 13 di aprile il mio compleanno speriamo che sia veramente possibile una ripartenza solo però se in sicurezza mi sembra molto difficile vedendo i numeri attuali i conti cerca unità basta polemiche ma i governatori non ci ascoltate trend stabile per i contagi fermo al 4% via libera ai tamponi rapidi in auto i casi totali a quota 120.000 guariti sono 20.000 ieri 766 morti Lombardia andiamo a concludere la nostra lettura dei giornali con Repubblica che pone l'accento sulla crisi economica che colpisce l'Italia e anche soprattutto Milano che è stata da sempre il motore economico del paese e il titolo è emblematico di Repubblica anche Milano ha fame un viaggio con i volontari che portano cibo ai nuovi poveri della città più ricca uscire solo con la mascherina esperti divisi riapertura non prima di metà maggio il governo ora ci pensa il cuore di Milano tra i nuovi poveri sfamati dai volontari scusate non abbiamo mai chiesto aiuto prima d'ora ma questo è un momento veramente difficile i pacchi consegnati a pensionati manca a studenti fuori sede a precari e quando arriva il pulmino col cibo molti scendono in strada per dire datene anche a noi e non possiamo che essere vicini a tutti voi a tutti quelli che sono in un momento difficile come lo siamo praticamente tutti ma mi raccomando uniti e compatti rimanendo in casa con le mascherine con i guanti sempre tutte le precauzioni possibili solo così si può pensare di ripartire e tornare alla nostra normalità mi raccomando buon sabato ancora a tutti